Premetto che è giusto affittare in regola, ma il vero truffatore è lo Stato, che si prende il 40%. Allora, io capisco che a nessuno piaccia pagare le tasse, soprattutto in Italia, dove spesso vengono sprecate, però bisognerebbe anche cercare di evitare di parlare per luoghi comuni. E non me ne voglia il signore che ha scritto questo commento. Allora, il proprietario che dà in locazione il suo immobile può scegliere di pagare le imposte col regime dell'acedolare secca. La liquota è il 21% e non il 40% e in questa liquota sono comprese anche l'imposta di bollo e di registro. Se poi il locatore sceglie di affittare a canone concordato, l'imposta scende al 10%, sempre includendo l'imposta di bollo e di registro e c'è anche una sostanziale riduzione dell'IMU. Il vero problema, secondo me, è che purtroppo ci sono persone così schifosamente avide che non pagherebbero le tasse nemmeno se queste fossero all'1%, salvo poi piangere quando si trovano la guardia di finanza in casa. Molto bene, questo è tutto. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi.